Fugge dagli Aguzzini, all'arma polizia e familiari telefonicamente, viene ritrovato con una pistola pronta per sparare. E' la misteriosa vicenda che ha coinvolto Francesco San Marco, pregiudicato 28enne di Tuturano, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi dopo la perquisizione della sua auto, dove è stato appunto rinvenuta e sequestrata una pistola modello 92S calibro 7,65. L'arma era nascosta nel vano portaoggetti dello sportello, lato, passeggero, aveva il cane armato ed un proiettile all'interno della camera di scoppio. Nel particolare, la ricerca del pregiudicato è partita in seguito di una telefonata effettuata dall'arrestato al 113 e nella quale dichiarava di trovarsi nelle vicinanze di Tuturano e di essere inseguito da alcune persone intenzionate a fargli del male. San Marco ha poi effettuato la stessa telefonata ai propri familiari, dopodiché, avendo spento il cellulare, non è stato più rintracciabile. Le operazioni di ricerca dell'uomo sono durate circa un'ora, fino a quando è stato rintracciato da una pattuglia dei vigili del fuoco e della squadra mobile, mentre vagava in stato confusionale ed impaurito fra le campagne situate lungo la strada statale 613. Trasportato in questura, ha raccontato di essere stato aggredito in seguito ad un forte litigio da persone da lui conosciute intenzionate a fargli del male, ma delle quali non ha voluto fornire l'identità. Per allontanarsi dal luogo della vita, San Marco ha raccontato di aver mostrato la pistola in suo possesso e di essere fuggito girovagando per alcune ore, fino a quando è stato ritrovato dalle stesse persone con cui aveva litigato nei pressi di una stazione di servizio sita sulla San Pietro Vernotico Brindisi, che hanno cominciato a picchiarlo con bastoni. A quel punto il pregiudicato era riuscito a fuggire nelle campagne a dare l'allarme con il proprio cellulare. In seguito alla ricostruzione, gli agenti delle volanti hanno perquisito prima la vettura e poi l'uomo ritrovandogli addosso l'arma. Prima dell'arresto è stato sottoposto da certamenti medici che hanno riscontrato traumi da percosse, dopodiché è stato arrestato con l'imputazione di detenzione illegale di arma da fuoco e trasportato presso la casa circondariale di Brindisi.